Detenzione illegale di arma clandestina e di numeroso munizionamento di diverso calibro. Questa è l'accusa formulata nei confronti di Mary Scrofani, 36 anni, lentinese, che è stato arrestato agli investigatori della squadra mobile di Siracusa con i poliziotti del commissariato di Lentini. Le ricerche che si sono rese necessarie a seguito dell'attività di investigative conseguenti all'arresto di Alfio Menta e al ritrovamento di un ingente quantitativo di armi e munizioni nel terreno sito incontrato a Gualdara di Lentini ha consentito il rinvenire ulteriori armi e munizioni di vario calibro e specie. In particolare l'attività delegata dalla procura di Siracusa attraverso metodi di ricerca avanzati e l'uso di georadar, metal detector e cani anti-esplosivo ha consentito di scoprire all'interno del bagno, abilmente murata sotto il bidet, una pistola Beretta calibro 22 con matricola brasa e 23 cartucce del medesimo calibro. Inoltre nel terreno circostante sono state trovate 500 cartucce di vario calibro. Nel proseguo dell'attività investigativa che nel settembre scorso ha portato all'arresto di Amenta e al ritrovamento di un ingente quantitativo di armi di vario tipo ma anche di un grosso quantitativo di munizioni, la procura di Siracusa che ha assunto il coordinamento e le indagini ha delegato alla Polizia di Stato ad effettuare un'ulteriore per acquisizione domiciliare nell'abitazione di Scrofani, moglie di Alfio Amenta all'interno della stessa proprietà sita incontrata a Gualdara. Proseguendo l'attività di perquisizione, spezzonando il terreno circostante all'abitazione, l'attenzione degli investigatori è stata attirata da una piccola porzione di terreno intrisa di una traccia di olio motore esausto. Nello stesso luogo si sono trovate tracce di una busta di plastica, anch'essa intrisa d'olio, pertanto si è scavato e nel terreno si è recuperato un grosso contenitore di plastica con all'interno sei bocce di vetro colme d'olio con 500 cartucce. Al termine dell'operazione Scrofani è stata posta agli arresti domiciliari.